Ciao a tutti e tutte, video che si apre questa volta in maniera diversa. Quando sto registrando questo video, e dunque sto anche registrando la chiusura del video principale, è il 16 settembre 2024. E come tutti già sapete in questo momento in cui sto registrando, ma a maggior ragione, quando questo video verrà pubblicato, qualche giorno fa ci ha lasciato Luca Salvadori. Luca Salvadori, che chiamo per nome e cognome perché non ho avuto la fortuna di conoscerlo, quindi per me è una forma di rispetto verso la sua persona, era, purtroppo era, un youtuber, perché io così l'ho conosciuto, ma soprattutto un pilota, principalmente di moto, ma anche di auto. Non ho avuto la fortuna appunto di conoscerlo direttamente, se non mediante YouTube, se non mediante NASCA. Luca Salvadori era una persona che è riuscita, anche mediante YouTube, a trasmettere la sua passione per il mondo delle corse in generale, ed è riuscita a farlo rimanendo su YouTube coerente rispetto alla persona che era. Chi lo ha conosciuto direttamente dice che proprio come era nei video era anche nella vita reale, quindi una persona sorridente, grandissimo appassionato, che era riuscito a vivere a pieno la sua passione. Una persona, anzitutto, di 32 anni che ha lasciato questa terra durante una gara in moto su strada in Germania. Lo ha fatto quindi vivendo a pieno la sua passione, vivendo a pieno davvero la vita. La vita, a mio avviso, viene vissuta quando si vivono le passioni, ciò che ci fa sentire realizzati, ciò che ci fa sentire vivi, qualunque essa sia questa passione, sia il motorsport, sia lo studio, sia qualunque altra cosa lecita, ovviamente. Luca Salvadori è morto perché, a quanto pare, ci sarebbe stata una collisione con un pilota che sarebbe caduto davanti a lui in una curva veloce a sinistra. La morte di Luca Salvadori, a soli 32 anni, mi ha fatto riflettere tantissimo, sia perché condividevamo indubbiamente la passione per il motorsport, e anche, con numeri ovviamente molto, moltissimo diversi, la passione per i video, per il trasmettere, il voler vivere assieme a una community, questa passione per il motorsport. E mi ha colpito anche perché non è che fosse così distante dalla mia età, io ho 26 anni. Mi ha fatto anche riflettere però che, da un certo punto di vista, è vero che ciò che ci accade nella vita è frutto delle nostre scelte, frutto delle nostre azioni. Ma talvolta gli eventi decisivi non dipendono da noi, ma da una persona terza. E sia ben chiaro, non sto dicendo che il pilota che è caduto abbia qualche colpa, e il motorsport è questo, ne siamo tutti consapevoli quando scendiamo in pista. Però, se ci pensate un attimo, se quel pilota non fosse caduto in quel punto, in quel determinato modo, o magari quel pilota quel giorno avesse avuto chissà che cosa, e non fosse sceso in pista, Luca Salvadori sarebbe ancora con noi. Questo video non partirebbe in questo modo, e magari starebbe già pensato alla prossima gara. Forse mi ha fatto riflettere perché ho sentito questo evento a me particolarmente vicino, non perché l'abbia conosciuto, purtroppo non avrò mai più modo di conoscerlo, però non lo so. Mi ha lasciato dentro un qualcosa, e quindi volevo aprire un po' questo video così, con questa riflessione forse anche troppo lunga. Il mio pensiero va a lui, che non c'è più, va alla famiglia, va al mondo del motorsport, in particolare il campionato italiano in cui lui correva, che ha deciso, assieme al team, suo diretto concorrente, di rendergli onore, intitolandolo già campione. A livello numerico c'era quasi, non è una vittoria di campionato regalata, assolutamente non, credo che nemmeno lui lo avrebbe mai voluto, è una vittoria su pista che è semplicemente stata anticipata. E' tutto così, anche per me che sono così distante da lui, ancora è difficile da capire, da metabolizzare. Quindi spero vi perdoniate questa piccola intro. Nel video non troverete Luca Salvadori in copertina, ci sarà solamente, probabilmente, il titolo testuale, poi il resto della copertina sarà, come avrete già visto, la stessa di sempre. Questo perché non è per me una forma di non rendere onore a Luca Salvadori, ma a me non piace il kickbait, men che meno con soggetti che non ci sono più, men che meno con persone che non ho avuto la fortuna di conoscere. Quindi ci sarà solamente il titolo, perché è qualcosa che sento di voler fare da appassionato di motorsport. E adesso vi lascio alla sigla e spero che riusciate a godervi con me questa sesta tappa dell'RKC 2024. Musica Ciao a tutti e tutte e benvenuti in questo video Sesta prova del campionato regionale RKC 2024 L'ultima tappa al circuito internazionale del Volturno Una tappa in cui dovrò dare il massimo Ve l'ho già spiegato nello scorso video Perché la posizione in campionato è un po' quella che è Vi ringrazio per la grande fiducia che mi avete dato In quella storia in cui molti di voi sono ancora ottimisti Sull'esito del campionato, probabilmente molto più ottimisti di me Il che mi carica a molla Se vedete questo video in maniera un po' differente rispetto alle altre volte Non è strano, infatti sto girando in 60 fps Alcune parti del video saranno in 50 Per quei test che vi dicevo di aumento della qualità Quindi speriamo vada davvero tutto bene Senza imprevisti tanti piloti anche quest'oggi Dovremmo essere in 54 Quattro gruppi di qualifica e quattro diverse batterie di gara 1 e gara 2 Io sarò nell'ultimo gruppo di qualifica Quindi con pista già un po' più caldina Vedremo un po', sperando come sempre che il medio sia clemente Sia per non aver pioggia Sia finché non ci sia troppo caldo E a me, come sempre, non resta che mettere in moto l'auto Fare due ore e dieci circa di viaggio E noi ci vediamo in pista Ci siamo finalmente Scendiamo in pista per il turno di qualifiche di questo round 6 dell'RKC 2024 Inizio a riprendere confidenza in pista e kart E inizio a scaldarlo Ti porto nel mio best lap di queste qualifiche Giro che inizia in questo istante Tutto giù su questi primi due curvoni Rapida successione nel precedente round Qui entravo tutto pieno ma ancora non riesco ad avere quella medesima fiducia E allora freno, arrivo più lento qui Ma questo mi consente di entrare meglio in queste curve successive Quasi contigue Sembra un unico grande curvone In realtà c'è un minuscolo rettilineo in mezzo E arriviamo in questo punto che alcuni prendono tutti in pieno Io ancora non ci riesco Frendo un po' per far girare il kart Per prendere poi il cordolo interno successivo Per arrivare poi qui a tutta velocità Faccio queste due curve Una dietro l'altra controllando semplicemente l'acceleratore Niente freno Ho imparato a farlo fortunatamente E ancora qui tutto giù Prendo qui il cordolo Dopodiché mi allargo Frenata per far girare il kart Arrivo tutto di traverso Ma riesco ad uscire abbastanza decentemente E mi piace Ho come l'impressione di essere più veloce in questa parte finale Rispetto a qualche round fa Dove mi lamentavo molto di essere lento proprio in questo punto E allora rettilineo d'arrivo per chiudere questo giro In 1 11 e circa due centesimi e rotti Non va bene Non è per niente un buon tempo Il mio tempo target è di 1.09 Non so perché Beh Ormai il risultato è questo L'ho chiamato a casa Qualifiche come al solito Come al solito Come ben sapete La qualifica non è esattamente il mio forte Gara 1 sarò nella batteria C E partirò in penultima posizione Fondo gruppo E ovviamente la strategia Sarà sempre la stessa Partire con calma Non mettersi in mezzo alla mischia Per evitare guai Come è accaduto durante il primo round Proprio qui Quindi Memore di quell'esperienza Evitiamo guai E non mi resta che fare come sempre del mio meglio Quindi Concentrazione Tu da di nuovo sistemata E noi Ci vediamo in pista E ci siamo La decima posizione Non è certo una delle posizioni migliori Si parte dal fondo del gruppo E soprattutto Purtroppo Parto dall'esterno E in questa pista Partire dall'esterno È un grosso svantaggio Perché? Perché le prime due Sono dei curvoni Dello C Quindi questa cosa vuol dire Che chi è all'interno Non ha alcun problema Nel prenderli Col piede Tutto giù E dunque Necessariamente Chi è all'esterno Farà molta più strada E questo solitamente vuol dire Perdere posizioni Ma poco male Mi devo concentrare Devo fare bene la partenza Come nelle ultime gare I semafori Si accendono Pronti via Si parte Si parte Si parte Si parte Si parte Vediamo come è andata questa partenza Ah Non bene come le altre volte Ho fatto un errore Abbastanza banale Cioè quello di non tenere accelerato il cut Dunque Ho alzato il piede Totalmente Dall'acceleratore E appena i semafori Si sono spenti Ho dato tutto Giù all'improvviso Grave errore Grave errore Perché il cut Non era in coppia Quindi Già partivo svantaggiato In questo modo Sono partito ancora Svantaggiato E infatti Purtroppo Mi ritrovo Adesso In un'undicesima posizione Ho addirittura Perso una posizione Vedendo anche davanti Come stanno bagarrando Come sempre Io non voglio entrare In mezzo ai guai Dunque Lascerò che bagarrino Un bel po' E al momento Propizio Mi infilerò Per approfittarmi Il più possibile Qui riesco ad essere Anche abbastanza veloce Attenzione Largo Lo vedo un po' in difficoltà Nello stesso punto In cui ero Io in difficoltà Nello scorso rauno In questa pista Adesso In quel punto Credo provi di essere migliorato Allora prendo Tutte la scelina Avicino Molto qui Quasi lo tocco E allora sapete che faccio Provo il suo passo qui All'interno Controllo Solamente con l'acceleratore Ma cacchio Perdo il kart dietro Mi scivola Non mi era mai accaduto prima Scusa Giuseppe Non l'ho fatto di proposito Contatto di gara Ma davvero Non mi spiego Perché il kart Mi si è scivolato dietro Strano Ma poco male Adesso devo Tenere il piede tutto giù E avere Come prossimo target Il gruppetto Lì davanti Che iniziano a darsene Di santa ragione Qualcuno va fuori Alza un po' di terra Ma io Non mi arrendo Allora Tutto giù Arrivo qui Al solito punto E cordolo interno E aia Che succede No Cos'è successo Cos'è successo Sono stato Cagnonato di brutto È stato bruttissimo Brutto 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 Contatto Che ci ha fatto Perdere molto tempo Rivediamo Quello che è successo Arrivo sul cordolo Lo sfioro Freno Nello stesso punto In cui freno Sempre E poi mi arriva Un botto Incredibile Che fa Anche alzare La visiera Del casco Per farvi capire La visiera Del mio casco È fissata A dei ganci Quindi il botto È stato talmente forte Da riuscire A far sganciare La visiera Dai ganci E far alzare La visiera Con un'annessa camera Che saranno Pochi grammi 35 grammi Di peso Però Il botto È stato talmente forte Da far alzare La visiera Con un'annessa camera E che io Lì per lì Sul kart Non capivo bene Cosa fosse accaduto All'inizio Perché Mi è arrivata A terra In viso E negli occhi E non capivo bene Poco dopo Mi sono reso conto Che la visiera Si era alzata Quindi il botto È stato veramente Brutto Meno male Che sono riuscito A fermarmi Prima delle gomme Che vedete Che sono messe Al centro Dell'uscita Di curva E sono riuscito Anche a non far Spagnere il kart Utilizzo un trucchetto Per fare ciò In un qualche prossimo video Ve lo spiegherò Cosa è successo A sua detta Ha avuto Un problema meccanico I freni In quel frangente Lo hanno abbandonato Credo che sia possibile Magari ha appoggiato male il piede Magari non ha dato i freni Quella pressione necessaria Affinché si attivassero i freni Comunque Al di là di tutto Al di là delle motivazioni Si è scusato Anche più volte Sia di presenza Sia poi sul gruppo del campionato Quindi per me È davvero tutto ok Resta L'uscita per campi È il grande spavento La gara va avanti Perderei solamente tempo A rimuginare Quindi piede adesso Tutto giù Devo riprendermi In quella decima posizione E cercare di Ricucire Il grosso gap Che Purtroppo Sia io che Giuseppe Abbiamo adesso accumulato Allora torniamo qui Nello stesso punto di prima Provo di nuovo Lo stesso sorpasso Stavolta Mi riesce Stavolta Non perdo il kart dietro Sorpasso pulito E adesso La mia unica preoccupazione È quella di Allontanarmi Il più possibile Da Giuseppe Se ha avuto Qualche problema meccanico Il rischio Di un altro Contatto di quel tipo È davvero molto alto Quindi voglio Evitare Albre uscite per campi Soprattutto Per evitare Sia di farmi male Sia di spegnere il kart E buttare totalmente Nel DC L'intera gara Quindi torniamo qui Nello stesso punto di prima Stavolta Ne esco intero Riesco a farlo E adesso Di nuovo Piede Tutto giù La cosa che È un po' desolante È che purtroppo Non vedo più Nessuno davanti a me Sono partito In un'ottima situazione Di base Perché Questa gara 1 Alla batteria Che ci sono stato inserito È piena zeppa Di stare pro E niente Davvero Niente Niente da fare Ci sto provando In tutti i momenti Sto facendo esperimenti Sto rischiando Sto facendo di tutto E di più Per provare A fare Qualcosa in cui Mi consente di Ravvicinarmi Ma proprio Non ci riesco Non riesco Ad avere la stessa fiducia Che avevo Su questo mezzo Durante l'ultimo round Qui Al circuito Del mio turno Ci provo E ci riprovo Ma niente Non riesco A provare La quadra Come la tradizione Come sempre Vi lascio Con un giro Pure view E pure sound Che è anche Il mio best lap In questa gara 1 Quindi Buona visione Dal circuito Internazionale Del Volturo Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anzi mi è anche arrivato lo spettro del doppiaggio che sarebbe folle su una pista del genere. Il doppiaggio non c'è però il terrore c'è sicuramente perché proprio davanti non vedo davvero più nessuno. Ci ho provato, ho dato tutto me stesso, ho davvero 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 molto molto deluso di questa prestazione. Succede, ci sono le gare in cui semplicemente accade, c'è da prendermi in atto questa decima direzione, analizziamo quello di successo e vediamoci insieme questa bandiera a scacchi che sancisce il mio arrivo in decima direzione. Come sempre la spiga gira dalla mia parte, quindi la fortuna non mi vede ma la spiga mi vede benissimo. Un déjà vu di questa stessa identica situazione. Partirò secondo di nuovo esattamente come qualcuno di voi ricorderà. Vi lascio il video del weekend qui come l'ultima volta che sono partito proprio in questa pista e vi ricorderete bene com'è finita l'ultima volta. Sì, io sì, me lo ricordo benissimo. Di nuovo partenza dall'esterno, nuovamente, due volte su due, guarda, si chiama fortuna. Questa volta cercherò di fare una partenza decisamente migliore e mamma mia, ogni volta è un dramma, farò un'altra morissata. Speriamo di meglio, ovviamente ce la metterò tutta però ormai una spiga che mi persegue ogni volta. La partenza dalle prime deposizioni per me sembra essere una maledizione, ma vediamo di romperla questa volta. Speriamo bene, ci vediamo in vista. Giro di formazione di questa gara 2. Chi è iscritto sul canale da un po' o chi mi segue da un po' può ben immaginare quale sia il mio stato d'animo in questo momento. Come pensavrete, e se non lo sapete ve lo spoilerò, tutte le volte che sono partite dalla prima fila è sempre andata male. Tranne una volta in cui sono riuscito ad occupare il gradino più basso del podio, ma tutte le altre volte sono finite fuori dal podio. Ed è una cosa che non si deve ripetere, che non posso permettere che si ripeta qui e adesso, dove ho assoluto bisogno di punti. Quindi devo cercare di partire bene. Dietro, in terza posizione, c'è un pilota della categoria Pro, quindi so che non sarà affatto facile. Le ultime curve prima dello spegnimento dei semafori, Gian Nattaso e il pilota della Pro si attacca dietro Fusco che parte in prima posizione. E qui devo stare molto attento, occhi sul semaforo e poi viete tutto giù, occhi sul semaforo e via, 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 si parte, si parte, si parte. Di nuovo partenza non ottimale con Fusco che vola via, incredibile. E allora qui, provo all'inizio a chiudere all'interno, ma sento i piloti che arrivano, devo lasciarli spazio. E no, e da dove arrivi tu? Da dove arrivi? Come un fulmine, come una saetta e pure all'interno. Pure all'interno, ma non ci sto, non ci sto e ricambio subito il favore. E indovinate un po', tempo di curve e sono quarte, sono già fuori dal podio. Perfetto, perfetto, si conferma di nuovo la mia maledizione della prima fila. Io davvero non lo so, Lando Norris, se guardi questi video smettila di seguirmi, perché non è davvero possibile. Un'altra Norrisata, un paio di curve e perdono la posizione. Vediamo la partenza per capire bene che cosa è successo, arriviamo all'inizio del rettilineo del treguardo. Io entro nella mia colonna, pronto allo spegnimento dei semafori, piede giù, alla giusta velocità per non superare Fusco, altrimenti sarebbe partenza irregolare. Occhio sul semaforo, pronto a spegnersi e come vedete Giannattasio è già bella attaccata a Fusco. Sono semafori che si spengono, metto il piede tutto giù, il kart però non mi dà la risposta che mi aspetto, però Fusco riesce ad accumulare un po' di spazio rispetto a Giannattasio di Erro. Allora qui cosa faccio? Provo a chiudere perché mi rendo conto che non posso fare roppa strada. Vado ad avvicinarmi al cordolo, però già qui mi rendo conto che Giannattasio è molto vicino a me e quindi infatti adesso vedete anche l'ombra, devo lasciargli spazio, non ho lo spazio io per chiudere. Arrivate a questo punto con Giannattasio affiancato, non potendo chiudere come vorrei per fare la curva, sono costretto a frenare per non andare lungo e perdere il kart in partenza con i rischi che ne conseguirebbero. Allorché qui provo a fare la mia reattoria ma arriva questo kart dal nulla che come vedete il ragazzo ha tenuto il pedale dell'acceleratore tutto giù e il freno tutto alzato, arriva però infatti come un fulmine velocissimo, lo avete visto, riesce a tenere il kart e a mettermisi davanti, dietro appunto Giannattasio. Allora arriviamo qui, vedo che l'altro pilota dietro di me, anche lui arriva all'interno, ne approfitta come se non ci fosse un domani ma qui riesco a rimediare subito, faccio un incrocio perché lui va a largo. Ecco quello che è successo a quel pilota è proprio quello che io ho voluto evitare in curva 2 con Giannattasio affiancato, c'è quello di fare quel tipo di lungo che appunto in partenza poteva essere molto molto pericoloso, mi riprendo la mia posizione e mi ritrovo adesso appunto in quarta posizione e la gara adesso è tutta da vedere, veramente allucinante ma vabbè c'è poco da fare, l'unica cosa buona che vedo in questo momento è che i tre davanti stanno bagarrando, cosa pessima è che hanno già preso un certo margine da me e non riesco a comprendere bene il perché ciò avvenga, non posso pensare neanche troppo, la gara è ancora lunga, dunque testa bassa, pedalare, anzi spingere in questo caso, e devo riuscire a riattaccarmi al gruppo lì davanti, devo necessariamente forzare un po' perché evidentemente sbaglio qualcosa, ci sono dei punti di pista in cui riesco ad accorciare altri cui proprio non riesco ad averne, ma noto già un qualcosa che il gruppo lì davanti in alcune parti di pista le fa molto diverse rispetto a me, questa molto simile ma ci sono alcuni punti di pista che proprio fanno in maniera molto differente, spingere perché anche loro come vedete stanno spingendo tantissimo, tantissimo, commettono dunque degli errori e io ne devo approfittare, non ho altro modo, non ho che altro fare, e allora qui entro tutto giù sul rettilineo che ci porta al traguardo, careno un po' per prendere un po' più di slancio, piede tutto giù, qui ancora non riesco a prenderla in pieno, ancora non ci riesco, devo pelare un po' il freno, pergo un po' il kart dietro qui ma arriviamo a questo punto dove freno e entro bene, entro bene, entro bene, entro bene, ma sento un'ombra sinistra dietro di me, quindi questo vuol dire che il pilota che è in quinta posizione ce l'ho attaccato di error, se qualcuno di voi ha qualche consiglio su come migliorare questa prestazione perché io davvero non riesco a comprendere, davvero non riesco, nel frattempo Gianno Attasio è bello che è andato, ha staccato tutti ma era alquanto prevedibile vista la caratura del pilota, e sbaglia di davanti, sbaglia di davanti, va e alza un po' di terra, ma qui e lo sapevo, lo sentivo che arrivava, gli ho dovuto lasciare spazio necessariamente se è infilato, devo riprendermi però subito alla quarta posizione, e allora già qui mi faccio vedere, mi affaccio, lui la fa molto più larga rispetto a me, mi lascia lo spazio, ma io non oso perché probabilmente gli sarei finito addosso, e qui ce l'ho davanti, vediamo se qui riesco ad attaccare, vado all'interno facendo la mia solida traiettoria, ma lui chiude, chiude di brutto, e sono costretto a frenare per non prenderlo, molto intelligente la sua mossa, forse un po' a limite, ma è davanti, ragazzi, è davanti, c'è poco da fare, devo riprendermi la mia quarta posizione adesso, ma già lo vedo allontanarsi, già lo vedo allontanarsi, ragazzi, non lo so, non lo so, non riesco davvero a comprendere, l'ho tenuto dietro un po' di giri, ma già nell'arco di qualche curva guardate quanto si è allontanato, guardate quanto mi ha preso, è pazzesco, è pazzesco, voglio commentare con voi questo giro, perché ho notato una cosa interessante, guardate il pilota che è davanti a me, guardatelo bene, vedete, fa tutte e quasi tutte le curve, in maniera diametralmente opposta rispetto alla mia, lui prende la traiettoria più larga, guardate qui, ad esempio qui proprio è emblematico, va tutto largo, non prende i cordoni, non prende il punto di corda e sfrutta tutta la pista, questa cosa a me non riesce naturale, anzi, dovrei proprio pensarci, è un atteggiamento liquido per me totalmente naturale, ho punto molte cordoni, ho punto ai punti di corda, ma a quanto pare questa cosa in un circuito come quello del Volturno non paga affatto, sembra strano, ma vedere quanto arriva l'arco lupo, vedere quanto sfrutta bene la carreggiata, la prende praticamente tutta, farà anche più strada, però evidentemente riesce ad uscire molto più veloce rispetto a me, e per quanto strano possa sembrare, però paga. Mi sa che ho imparato la lezione, e dalla prossima volta devo proprio sforzarmi di fare delle traiettorie di quel tipo. E ci provo, sento che manca poco, ma devo dare tutto, è questo infatti il mio best lap di tutta la domenica di gare, uno dei pochi giri in cui sono riuscito a toccare il mio tempo target di 1.09, anzi un 1.09 alto, e allora qui l'ho presa quasi tutta piena, il doppio gruppo nell'inizio, vado dentro qui, mentre davanti iniziano sul serio a bagarrare, evidentemente anche loro sentono la fine della gara vicina, arriviamo a questo punto, freno per andare sul cordolo, non lo farò più la prossima volta, e poi tutto giù in questo breve rettilineo, per arrivare in questa serie di due curve in realtà, non è una, sono due intervallate da un brevissimo rettilineo, dove ormai le faccio solamente giocando con l'acceleratore, e poi si arriva tutto, qui, punto di corda, frenata, e dentro per fare quest'altra serie di due curve molto ravvicinate, mentre davanti se le stanno dando di santissima ragione, e allora che qui, cordolo, cordolo, dovrei toccare anche il cordolo esterno, ma non lo faccio, rimango a metà careggiata, tutto giù, e a inizio l'ultimo giro, l'ultimo giro di gara, l'ultimo giro di questa domenica di gare, e davanti se le danno davvero di santissima ragione, e qui finalmente, finalmente, dopo una domenica, riesco a tenere il piede tutto giù, e a fare quel benedetto curvone in tutta velocità, mentre davanti sorpassi e contro sorpassi, sto dando il massimo, voi non lo vedete, ma sotto quel casco ci sono gocce di sudore enormi, enormi, sono davvero sfinito, sto dando tutto me stesso in queste ultime curve, per approfittare di qualche eventuale errore lì davanti, e vedo che lì è molto probabile, guardate lì, che scambi di posizione, che bello spettacolo, arrivano in tre, in tre in curva, che pazzi, che pazzi, stavo dicendo, un bellissimo spettacolo per me, un bellissimo spettacolo per loro, ma anche per me che posso approfittarne, mancano poche curve, ma guardate lì davanti cosa sta succedendo di tutto e di più, e va sulla terra, va sulla terra, vediamo se riesco ad approfittarne, piede tutto giù, vai, assistimi, guarda, assistimi, 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 ma niente, bandiera scacchi, gara che concludo in quinta posizione, un'altra non risata delle mie, devo smetterla di partire dalle prime posizioni, l'unica cosa che mi porto di buono è il vantaggio, come è avvenuto peraltro anche in gara 1, di 16 secondi in questo caso, rispetto al pilota, arrivato in sesta posizione, quindi un po' questa cosa mi rincuora, ma certo, avrei preferito concludereci un po' beh, che vi avevo detto, la non rissata è stata fatta, di nuovo, nuovamente, non ho senso parole, ho avuto bisogno di un po' di tempo per mettere a fuoco il tutto, contente che infatti la tuta non c'è più, sono tornati in abiti civili, e niente ragazzi, non ho che aggiungere rispetto a ciò che abbiamo visto e commentato insieme, e io non me la spiego, veramente, come sia possibile che una volta che parta dalla prima fila, finisca sempre eventualmente così, quello che però so che ho dato il massimo possibile, tant'è che ho abbassato ancora di altri due secondi il mio best lap, ho dato proprio tutto quello che avevo, nella speranza che la bagarre davanti si evolvesse in qualcosa di più bagarroso, fortunato per me, ma così non è stato, quindi va bene, pazienza, amen, succede, spero che vi siano divertiti almeno quanto me, e noi ci vediamo tra pochissimo per tirare le somme di questa domenica di gara e, come sempre, guardare le classifiche. Ah, prima di passare alle conclusioni finali, questa è la classifica finale di gara 2, tra poco. Il weekend è andato come panno tutti i weekend in cui parto in pole, dovevo in questo weekend dare del mio meglio, riuscire a strappare qualche punticino, ne ho avuto l'opportunità, ho dato il massimo, credetemi, ho dato davvero, davvero, tutto quello che avevo, ma purtroppo, purtroppo, i risultati non sono arrivati. Solo un po' perché questa è stata l'ultima gara al circuito del Volturno, dove davvero non sono mai riuscito quest'anno a trovare la quadra, adesso la sfida mentale è di riuscire a capire, interpretare al meglio quel circuito per far scendere quei maledetti tempi sotto l'1,09, quindi target 1,08 assolutamente. Come vi ho detto prima, forse qualcosina, qualche idea su dove migliorare, su come prendere meglio determinati punti di vista ce l'ho, mi riesce in naturale, quindi dovrò rieducare il mio cervello per riuscire a migliorare in quella tipologia di piste. Ovviamente la classifica ne ha risentito, potevano risentirne, ovviamente no. Dunque questa è la classifica della categoria, ma dopo il sesto round dell'RKC 2024, come vedete sono ancora in ottava posizione, ben saldo di purtroppo, ma il distacco da quelli davanti inizia ad aumentare, quando mancano solamente due round alla fine del campionato. Sia ben chiaro, nulla di trascendentale, nulla di irreparabile, però parliamoci chiaro, il terzo posto inizia davvero ad essere un'utopia. Spero davvero e vivamente che le prossime ultime due tappe, che entrambe al cartodromo iscano, vadano meglio, e spero di portarvi per le ultime due gare qualche novità ancora, perché spero bene siete accorti, perché bene siete accorti che la qualità di questo video è almeno una spagna sopra le altre, no? Non parlo solamente delle nuove grafiche, che spero vi piacciono, sia a livello di indicatori, sia a livello di classifiche varie durante il weekend, e la classifica finale. Ci ho lavorato un po' su, quindi spero che queste clicche vi piacciono, ma anche a livello di qualità video. Spero si siano dati non solo i 50-60 FPS che sono stati un bel upgrade, ma proprio a livello di qualità video. Ve l'avevo promesso e ve l'ho portato. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto, e anche ovviamente se avete qualche suggerimento per implementare ancora qualcosina in più. Testa adesso alle prossime due gare, la quale, la penultima, il round 7 è stato spostato. Rimane sempre al cattolo Moiscaro, ma passa da inizio ottobre al 27 ottobre, quindi uno spostamento rilevante di quasi un mese. La gara del round 6, la gara del round 7 distano anche forse più di un mese e mezzo. Avrò un mese e mezzo di stop? Ovviamente no. Andrò in pista ad allenarmi, anche perché al cartone Moiscaro, come avete visto, riesco forse a dare quel pelito in più, quindi devo sfruttarlo al massimo. Prima di chiudere, nota di merito alla maglietta che c'è stata data, ottima qualità, ma d'altronde le ha fatte Iliana, cioè non è che mi aspettavo di peggio da Clemente, cioè nel senso è lo standard, quindi ottimo. Davvero mi ha sorpreso, l'ho tenuta sotto la tuta per tutta la gara, si è comportata divinamente, quindi davvero complimenti, tanta qualità. A me dunque non resta che darvi appuntamento al prossimo video, alla prossima domenica di gara, fatemi sapere cosa ne pensate di questo weekend qui sotto, ovviamente i contenuti non finiscono mica qui, ci sono i social, Instagram, soprattutto TikTok, dove posto contenuti quasi ogni giorno, trovate i link ai vari social qui sotto in descrizione. assieme a qualche altro link molto interessante. Io vi ringrazio per aver vissuto questa domenica di gara assieme a me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!